Due bug nella sicurezza dei processori metterebbero a rischio tutti i computer e i dispositivi mobili connessi alla rete, smartphone, tablet e, auto, i ricercatori di Google Project Zero hanno scoperto due falle nei processori dei principali colossi mondiali, tra cui Intel, ARM e AMD, che esporrebbero gli utenti al rischio di furto di password ed api personali. Nonostante la vicenda sia stata minimizzata, gli esperti affermano che esiste un pericolo reale che coinvolgerebbe anche tutte le auto di nuova generazione, tra cui BMW, Audi, Chrysler, Ford, Honda, Mazda e Opel, bug Intel, a rischio anche le auto discorso che va a braccetto con la guida autonoma e sulla responsabilità effettiva in caso di sinistro Se la macchina guida da sola infatti anche senza pilota a bordo è espugnabile, come un qualsiasi dispositivo mobile, di chi la responsabilita in caso di incidente proprio Intel, con l'acquisizione di Mobileye a marzo 2017 entrata nel settore della guida autonoma con l'obiettivo di produrre componenti da vendere poi alle case e costruttrici ci si pongono adesso delle domande su quanto possa essere sicuro affidare a poche soci e il monopolio sui processori, soprattutto se non si ha in programma una differenziazione dei prodotti al fine di garantirne la sicurezza i due bacchi la prima falla chiamata Meltdown colpisce i microprocessori Intel e ARM e permette l'accesso a terzi alla memoria del computer la seconda Spectre riguarda la predizione delle diramazioni un procedimento attraverso il quale, i processori per velocizzare il lavoro vanno, ad intuito, nella scelta tra due diverse soluzioni iniziando così calcoli in anticipo prima che l'istruzione venga impartita in molti, tra cui Microsoft e Apple sono ricorsi ad upgrade di sicurezza che potrebbero per portare a seconda del Davis ad un rallentamento del sistema tra il 5% e il 30% sullo stesso piano di importanza per quanto riguarda le informazioni personali un conto prendere misure cautelari su uno smartphone un altro conto mettere al sicuro andando a rallentare il sistema mezzi che generano 4000 GB di dati al giorno e anche per quanto riguarda le informazioni personali Grazie.